Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, prima di tutto ringrazio tutti quelli che hanno commentato, che hanno fatto critiche costruttive sul vlog dei migliori giochi del 2019, mi ha fatto riflettere anche colui che mi ha detto che ho una voce piuttosto piatta, però io purtroppo a fare lo stupido in video tipo E' bella ragazzi, non ce la faccio, e sempre per scusarmi io mi sono appassionato a un gioco che vi avevo già portato un paio d'anni fa, Escape from Tarkov, mi aveva lasciato un po' perplesso ma ammetto di aver mancato un pochino di rispetto, un po' come faccio ogni tanto quando vi porto dei giochi in modo superficiale Ma soprattutto sono quei giochi che richiedono numerose decine di ore per essere compresi, tempo che io purtroppo non ho tra tutti i giochi che devo fare e altri impegni Quindi ho visto che l'hanno ricominciato a portare tanti streamer, il gioco è in vendita dal sito ufficiale della Battlesite, il gioco che costa, se escludiamo gli sconti perché ci sono degli sconti ogni tanto del 25%, costa sulle 40€, la versione minima Che cosa cambia da una all'altra? La dotazione di armi e lo spazio di archiviazione e i soldi iniziali Vi spiego come funziona, il gioco è questo, Escape from Tarkov è un gioco dove dovete raidare, cioè entrare in una mappa che scegliete voi, tra le disponibili Mappe che sono parte di un unico mondo ma al momento non sono ancora collegate, in un futuro sarà una mappa unica Entrate, fate, lutate, uccidete nemici, ci sono anche i personaggi gestiti dal computer, giocatori umani come voi Li uccidete, gli fregate le armi, le armi se morite poi perdete tutto all'interno del raid, salvo assicurazione Ma quello poi ve lo spiego dopo Che cos'è il nostro personaggio? È questo, il personaggio ha uno stash che è più o meno grande E praticamente qua dentro mettete tutta la roba che recuperate nei loot E quando poi lasciate una zona, li depositate qui, potete prenderli Ogni arma è visualizzabile ed è modabile Addirittura io credo sia possibile, se recuperate le varie parti, i componenti di un'arma, assemblarvene una Da soli, trovate magari una canna, un calcio e l'assemblate e create l'arma Ogni caricatore, al tempo stesso, ha all'interno delle munizioni Queste munizioni le dovete caricare dentro a mano, il caricatore, se siete in partita Quindi il bello è che i caricatori, se voi fate R e cambiate Avete un caricatore che ha, ad esempio mettiamo a caso questi da 15 colpi Avete due caricatori, sparate 3 colpi, ve ne restano 12 Fate R e vi mette l'altro caricatore da 15 Se fate R di nuovo vi rimette l'altro Quindi dovete avere munizioni sciolte in tasca e poi andare a nascondervi e riempirlo Pensate voi Mentre le armi quelle più grosse hanno una serie di mod da mirini, tattici e cose che vi riducono il rinculo In questo gioco, vi ricordo, si muore anche solo con un colpo benassestato alla testa Qua vedete il simbolo delle cuffie perché è importantissimo camminare lentamente E chi ha le cuffie può sentire in modo amplificato il rumore intorno a sé Ci sono poi la pouch La pouch anche questa come lo stash è influenzata dalla versione di gioco che acquistate La pouch è una cassa sicura Cioè se voi entrate in ride e perdete gli oggetti Quello che avete all'interno della pouch non lo perdete Quindi all'interno del gioco trovate un mierino, il mierino lo mettete qui Il mierino, se voi morite perdete tutto tranne quello che avete qua dentro La roba la potete assicurare, poi lo vedremo Ma anzi non ve lo spiego subito Lo assicurate, assicurate tutta la roba in modo che se morite E chi vi ha rubato comunque la roba non la estrae perché muore a sua volta o non gli interessa la molla Quindi alla fine della partita resta sul campo di battaglia Nel giro di tot ore vi viene restituita Pagate un botto di assicurazione però le cose che non vengono estratte vi tornano indietro Le cose che invece vengono rubate e portate fuori dalla mappa non le avete più comunque Quindi questa è un'altra cosa importante Altra cosa è il trading La possibilità di avere diversi vendor che vi vendono cose Vi acquistano cose, potete andare a venderle Vi danno missioni, in questo caso uccidere 5 Scav, poi adesso vi spiego anche cosa sono gli scav Completando le loro missioni inoltre vi danno oggetti, soldi E vendendo loro, in questo caso un milione Spendendo o comprando per un milione Vendendo o comprando per un milione in totale Accedete a livello 2 Dovete essere però voi stessi livello 5 15 scusate E accedete alla tab 2 Con altri oggetti ancora più fighi da acquistare Le task sono quelle Poi ce ne sono tanti Insomma ognuno vende poi i suoi oggetti E così via Un'altra cosa è l'hideout L'hideout è una cosa nuova Che praticamente va a influenzare il vostro recupero La roba che avete Ad esempio lo stash Lo stash è appunto dove mettete le armi Che avete, possedete, i vostri proprietà Vi ho detto che la versione più costosa del gioco è la versione più grande La versione 4 Ma se voi comprate la versione base E giocate, siete bravi O comunque fate soldi Vi potenziate lo stash Usando tot soldi Tot materiali richiesti E arrivate alla stessa versione che costa 120 euro Quindi si può raggiungere tutto giocando Non c'è nessuna fretta di avere Io ho avuto una versione press Che aveva tutto Tutto maxato questo Ad esempio invece avete qua Andando avanti Muovendosi Andando verso Scusate Verso sin in destra Qua io ho preso la med station La med station mi permette di fare un crafting Minimo Almeno a livello 1 Poi si può potenziare a livello 2 Posso craftarmi dei medikit Usando dei materiali E soprattutto recupero più rapidamente la vita Se fate il sistema della collezione d'acqua Diciamo la raccolta d'acqua La sete in partita vi scende più lentamente Perché? In gioco avete la sete E soprattutto se vi Queste sono le parti del corpo Vi forano lo stomaco Lo stomaco perde liquidi Avete bisogno di liquidi Se non avete malus Poi si va a morire Stessa cosa Se voi avete le armi Le armi Scusate Le gambe rotte Mivo mette lentissimi Usate lo sprint Che è una sorta di stampella Di immobilizzatore Insomma E le gambe vi vanno da 0 a 1 E potete muovervi Ovviamente Con alcune difficoltà Insomma Non potete saltare E niente Questo era quello che volevo dirvi E riguardo C'è un'altra cosa Appena mi viene in mente Ve la dico però Insomma Ecco Se voi morite Se voi morite Il vostro personaggio Ci metterà del tempo A riprendersi Ci avrà dei malus Avrà tutte queste dimezzate Insomma Ci verranno dei minuti Per recuperare Questa era la cosa Che mi mancava da dirvi Altra cosa Potete giocare in due modalità Potete giocare in modalità Scav E modalità PMC La scav È la modalità In cui il gioco Vi assegna ad ufficio Un equipaggiamento Entrate in ride Siete degli scavenger Quindi non vi scegliete L'equipaggiamento Ma Giocate con quello che Che vi dà il gioco A caso Però se raggiungete La zona di distrazione Tutto l'equipaggiamento Rimane vostro Non avete la pouch Quindi non potete Mettere in salvo Alcune cose Però Ecco Se raggiungete L'uscita Siete salvi E vi tenete tutto Si può giocare Ogni 20 minuti Quindi io sono morto Poco fa Devo aspettare 8 minuti Altra cosa Ehm Diciamo che In gioco trovate Dei PNG Personaggi gestiti da PC Questi personaggi Se siete degli scavenger Loro sono scavenger Come voi Non vi sparano Non vi sparano Fino al momento in cui Voi non sparate a loro A quel punto Ce l'hanno tutti con voi Se no Li potete usare Li vedete Li lasciate stare E loro sicuramente Sparano i giocatori Che giocano come PMC Quindi Vi fanno un po' Da copertura Ora Assembliamo Quello che potrebbe essere Il mio Prendo il backpack Vedete che mi dà lo zaino Mi prendo il tattico Che ho altre armi Mi metto Delle munizioni Mi prendo Questo fucile Che l'ho preparato Una ride Che ho giocato Insieme a Mr. Deller Che va con le 5.56 Per 45 Vediamo se sono giuste No Sì Quindi metto Una munizione qui Una munizione qui 18 su 20 Direi che Potrei far così Inspect Tolgo il caricatore Che ho perso un colpo E ce ne metto uno A carico Ok Un caricatore nella giacchetta Uno qua Ma non me ne frega niente Le metto tutti e due qua Tanto Chi se ne frega Non ho mirini Credo che vadano bene Ma non voglio neanche Andare a esagerare Sì infatti No Questo è compatibile Però Lo slot non è vuoto Quindi lo posso metterlo lì In borsa Mettiamo magari Beh beh La soluzione salina Non so cosa mi serve Dei vendaggi Un medic kit Uno splint per le fratture Direi che Un equipaggiamento base Lo abbiamo Non ho cuffie Non ho Prendo l'elmetto Lo metto solo perché ho Recuperato questa roba Prima C'è anche questa Metallietta che non è male Ma io mi tengo questo Dai proviamo così Prendo così Le skill qua Vabbè Si Più Noi facciamo Uccisioni Facciamo salire la nostra Pardonanza con un'arma Soprattutto Più facciamo le cose Più ci sale vitalità Resistenza allo stress Immunità Forza E questo influenza anche La nostra capacità di corsa Di salto Insomma Ok Andiamo In PMC Andiamo in Custom Che è una mappa semplice Anche se la conosco poco 9 di mattina Quindi c'è già il sole Si spera Non ho la mappa Ma che se ne frega Io adesso faccio al tab Vado a vedermela Si può giocare anche in Flying Tra l'altro Si può assicurare Io assicuro tutto Spendo 13.000 Di assicurazione E come detto Se Questa roba Non viene portata fuori Me la riottengo E' una sorta di Paracadute In caso di emergenza Questo è il mio aspetto Non sono proprio bellissimo Con quel casco chiaro Così Però L'ho recuperato in un ride Mi era stato dato D'ufficio Tra virgolette Facendo lo scav Siamo arrivati Alla punto di estrazione Insomma E Io ho ancora Dei seri problemi A riconoscere la mappa Custom Non è difficilissima Ma E' tutta sviluppata In orizzontale Da est a ovest O da ovest a est E Premendo due volte Velocemente E Vi darà il punto di estrazione Più vicino Da raggiungere Potrei andare Ovviamente Sto entrando Con un equipaggiamento Mio Un'assicurazione Che ho pagato Un occhio dalla testa Io Quindi avrebbe senso Uccidere Tutti Gli scavi In questo caso Non Non sono amichevoli Quindi Gli scav Quindi tutti quei personaggi Per distinguere Dagli umani Parlano in russo Quindi si sentono Proprio commentano Ridono Camminano in modo Molto Meccanico Molto robotico Quindi Non si buttano a terra Non fanno cose strane Quindi si distinguono Abbastanza facilmente Comunque ci spareranno tutti E sono Devo dire Assolutamente Letali pure loro Due colpi E vi fanno fuori Quindi ora Entriamo Cerchiamo di capire Dove ci troviamo Io sto Uso al tab Poi andrò Perché non ho Secondo schermo attivo Al momento Andrò a vedermi Dove mi trovo E Qual è il punto Di estrazione più vicino E cercherò di Mi Rilasceranno in 15 secondi E poi Andremo a vedere Dove siamo Si può giocare In gruppo con amici Sia in gruppo di scav Sia in gruppo Così di ride Trovate Tantissimi Streaming Negli ultimi tempi Fatti da vari Youtuber O Twitchers Come si usa Insomma Siamo pronti Ad essere Rilasciati Nell'area Get ready Deploying E andiamo Ok Vi spiego subito Un paio di cose Poi guardiamo Ah ecco qua Ci sono Punti di estrazione Ci sono 49 minuti Per andarsene Adesso cercheremo Di capire dove siamo Ma ancora prima Vi spiego due cose Allora la prima È che Se premete Alt E T Vedete Vi toglie Vi dice Quante punizioni Avete Perché non ci sono Indicatori Alt Più B Vi fa vedere La modalità di fuoco Singola Se fate Alt Più V Spara sopra Siete dietro Una riparazione Sparate così E di lato Anche così Ok Queste sono le due figate Ora siamo in una sorta di Fare molto silenzio Di ferrovia E il punto di estrazione Più vicino È I dormitori O crossroad Io devo capire Dove Caspita sono Perché Non lo so Facciamo sempre molto silenzio Fare un muore In carrefrasche Ecco Altra cosa Se voi vedete In basso A sinistra C'è Una rotellina E' solo un indicatore Che si sta muovendo Con la rotellina del mouse Posso decidere Che velocità camminare Quindi di conseguenza Vado lentissimo Ma non faccio rumore Stessa cosa Con C Mi posso abbassare Se tengo premuto C Più la rotella Posso alzarmi E abbassarmi A vari gradi Intanto di là Stanno facendo casino Io devo andare I dormitori Io adesso avanzo Pian piano Tanto moriremo presto Poi avrò tutto È un gioco molto punitivo Molto punitivo Però Quando lo padroneggeremo Sarete Sarete No ma poi Scusatemi Anche il fatto di Quando si toglie il caricatore Si mette il nuovo caricatore Soprattutto dalla pistola L'umore che fa È veramente qualcosa di Eccezionale Devo andare ai dormitori Quindi io i dormitori Ho una vaga idea Di dove possano essere Però non so dove mi trovo io adesso Io sento sparare Purtroppo ho gli auricolari Che mi fa C'è qualcuno là su? No È una cosa strana Purtroppo Io ho gli auricolari Dove sento la mia voce In modo da non stonare Quindi non sento bene Quello che succede all'esterno Adesso cerco di capire Che dobbiamo essere Sulla ferrovia In un punto Vediamo un attimo Dove dobbiamo andare La ferrovia Non so proprio dove sia Quindi Quindi Proviamo A mappete Train to Tarkov Vabbè Troviamo una Un qualcosa dai Adesso sono stato qua abbastanza Scusatemi Non stavo guardando la mappa Magari Arrivando a destra I colpi Ovviamente qua si sente Si sente I passi Quindi Bisogna fare molto Molto silenzio Sì 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 Ok Lai inizio a riconoscere la zona Quindi bisognerebbe andare di qua Forse per i dormitori Mamma mia Fa Silenzio Questo è un colpo singolo Questo fucile qui Quindi Fa Molta Molta Con molta Protela Eccolo lì Stanno sparando di là Vi sto Non so poi se stiamo Sparando degli scav O a che altro Però C'è una zona C'è una zona dove ci sono Dei dormitori E un volto Molto Ah la gas station Sono dietro la gas station Merda 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 Nasconditi qua Giù Giù basso Giù basso Per vedere Sono Ho superato La gas station Quindi Quindi Scusatemi Adesso sto Mi sto concentrando Ho superato la gas station Madonna mia I dormitori sono da tutta altra parte Perché i treni sono di là Guardando verso la gas station Lasciandocela a sinistra Si va verso i dormitori Quindi la gas station È lì Me la devo lasciare di là Perché devo superare i treni I dormitori sono di là Vabbè niente Dai Podiamo andare di là Abbandono questa zona Che mi fa venire l'ansia È un gioco che metto Veramente ansia Se ve lo potete godere Con un amico Tra l'altro ci sono anche Degli sconti Se li comprate Più copie insieme E vediamo Adesso Allora 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 A sto punto Il gioco me l'ho fatto vedere Adesso cerco di metterli in salvo Voglio vedere dov'è La zona di estrazione E i dormitori Ok È dietro i dormitori Perfetto Eccoli qua I dormitori sono questi Dietro i dormitori Dovrebbe esserci Una zona di estrazione Dove cercheremo Di metterci in salvo Forse Forse Eccoli qua Speriamo che Eccola qua Non mi fai andare via Non mi fai andare via Nooo 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 Mamma mia Che fail Servono quattro persone Qua per andarsene Dorm VX Old road gate Mannaggia Serve quello Servono quattro persone Per andarsene Exit located Exit located Eh ho capito Voglio andarmene però Eh mannaggia Mannaggia La pupazza Altri luoghi Dove posso andarmene Crossroad E trailer park Vediamo un po' Crossroad E in culandia Trailer park Sto guardando Eh In fondo alla mappa La mappete Vabbè Facciamo tutto il muro Facciamo il fiume Andiamo Ce ne va Adesso appunto Proviamo così Tanto non ho addosso nulla Niente Gli servono quattro persone Quindi se avevamo quattro persone Potevamo andarcene E Boh Vediamo dai Tanto la mappa Non è grandissima Vediamo se ce la facciamo Ad andarcene Senza Aver Eccolo là Vedete là c'è qualcuno Probabilmente ci ha sentito Io adesso Mi nascondo di qua Non so se è morto O meno Ahia Eh Sono finito sul filo spinato Mannaggia me Il filo spinato Vi danneggia Me ne vado io Pian piano Gli ho sparato Non so neanche se l'ho ucciso Onestamente non mi interessa Perché me ne voglio andare Prima possibile A questo posto E Non posso attraversare Devo arrivare lì sotto il ponte Dove c'è un piccolo ponticello Probabilmente l'altro tizio O è furbo E ha capito E mi ha visto Oppure mi sta andando a prendere Oppure è morto La cosa che ho imparato In questo gioco È che Non potete Pensare E pretendere Di sparare Quando avete di fronte Il nemico E basta Perché Sparare Un secondo Dopo Aia Può fare la differenza E infatti E infatti Sono morto Ragazzi Ho perso tutto Speriamo che la roba assegurata Mi sia restituita Un giorno Fatemi sapere Che cosa ne pensate Del gameplay Del gioco Insomma Spiegate un po' meglio Rispetto all'ultima volta E alla prossima E ciao ciao Spiegate un po' meglio